e Anna Maria Franzoni, Anna Maria Franzoni, la mamma di Cogne, ritorna in libertà, forse ve lo ricordate l'episodio della mamma di Cogne, roba del 2010, cioè nove anni fa, la mamma che è stata ritenuta colpevole di aver ucciso suo figlio, un processo memorabile. Io, 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 Serafino Massoni ne ho parlato in un video, ne ho parlato in un video, ne ho parlato in un video il 17 giugno del 2010 e questo mio video che è intitolato Anna Maria Franzoni e Isabella Bossi-Fedricotti, Anna Maria Franzoni e Isabella Bossi-Fedricotti, ve lo metto come linea riassunto di questo video, così voi potete verificare ciò che io dicevo allora, quando il processo era ancora in corso, siamo nel 2010 e ricordo che tutta la stampa si era accanita contro la mamma di Cogne, Anna Maria Franzoni, perché il suo bambino era morto nel corso della notte, era morto, nel corso della notte era morto, aveva delle lesioni sul capo, sul capo, e venne accusata, Anna Maria Franzoni, venne accusata di aver ucciso il bambino, la verità, la verità quella vera non è stata mai trovata, perché voi sapete, perché ci sono vari tipi di verità, c'è la verità massmediatica, quella del giornalismo, delle televisioni, c'è la verità dei fatti, la verità fattuale, ma quella la conosce solo Dio, e poi c'è la verità giudiziaria, e la verità giudiziaria ha stabilito che Anna Maria Franzoni, la mamma di Cogne, era colpevole di aver ucciso suo figlio, per cui è stata incarcerata, e in questi giorni la mamma di Cogne, Anna Maria Franzoni, riacquista la propria libertà. Io però nel 2010, esattamente il 17 giugno del 2010, avevo già fatto le mie analisi, sapete che cosa diceva il grande Friedrich Nietzsche? No, non esistono fatti, ma solo interpretazioni. Io nel 2010 avevo dato la mia interpretazione, e qua la ribadisco, qua la ribadisco, e nell'antica Roma si diceva che quando ci sono dei dubbi, quando ci sono dei dubbi relativamente ad un reato, si diceva in dubbio, pro reo, in dubbio, pro reo. Se c'è qualche dubbio, si sta a favore dell'imputato, antica Roma, antica Roma, si diceva che una volta erano barbari, oggi siamo civili, in dubbio pro reo. Lo stesso atteggiamento lo si doveva tenere nei confronti della mamma di Cogne, però che succede? Che anche la magistratura è fatta di esseri umani, esseri umani con un cuore, anche la magistratura, e anche la magistratura può subire, può subire il condizionamento masmediatico. Io il 17 giugno del 2010 parlavo per l'appunto di un condizionamento masmediatico nel mio video intitolato Anna Maria Franzoni and Isabella Bossi Fedrigotti. Quindi io qua concludo questo mio video invitandovi ad andare a vedere quel mio antico video del 17 giugno 2010 intitolato Anna Maria Franzoni and Isabella Bossi Fedrigotti. Ok cari amici? Bene cari amici, per me era innocente, casomai fosse stata colpevole, mancando però delle prove certe doveva essere lasciata in libertà. Ok? Ok? Ella non ha mai confessato. Mai, 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 mai. E la pistola fumante non è mai stata trovata. Ok cari amici? A tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni che è questo qua. Per chi non mi conosce, Serafino Massoni è questo qua. Ok, ok, ok.